Arte e terrore, la prima cosa che il primo passo, il primo momento che viene in mente è certamente la definizione che dà la tragedia da Aristotele nella poetica. La tragedia, che poi era in genere letterario, nell'Atene classica, è definita da Aristotele, credo ha ragione, come limitazione, tutti se lo ricordano, no? L'imitazione, mimesi, dove mimesi ovviamente non ha assolutamente il significato di una semplice riproduzione, come dire, passiva. Mimesi è una rappresentazione, non una imitazione. Mimesi, di un'azione, dramma, da cui il dramma, di un'azione che suscita Phobos e Eleos. Poi il passo continua, ma aggiunge altre cose, il concetto di catarsi, eccetera, ma soffermiamoci su questo primo momento, no? Un'azione che suscita Phobos, paura, e Eleos, misericordia. Diciamo così, Lessing, il grande autore dell'illuminismo tedesco, si sofferma a lungo su questo passo della poetica di Aristotele, cercando di tradurre questo Eleos. E lo traduce, secondo me, molto bene, dicendo, traducendolo con mit l'Aid. Cioè, l'Aid potrebbe essere anche Eleos. un sentimento di pena, l'Aid, di dolore, di pena, ma quel mit è fondamentale, cioè di compassione, no? Mit l'Aid. È proprio così. La tragedia è un'imitazione di un'azione che deve suscitare paura e nello stesso tempo partecipazione. Questa mimesi, e per i greci ogni forma artistica è mimesi, cioè rappresentazione, ha questo scopo specifico. Suscitare una compassione da parte di chi assiste, che in greco si diceva il Theoros, che non era lo spettatore semplicemente, ma era proprio colui che osservava, che vedeva, che guardava con la massima attenzione, teoria. Il Theoros, gli spettatori in Grecia venivano chiamati Theoroi. Quindi, un'azione, l'imitazione di un'azione, un'imitazione capace, il tram, poi, l'azione era quella degli eroi, come tutti sapete, no? Le tragedie greche erano rappresentazioni dei miti eroici. Erano eroi, cioè personaggi straordinari in situazioni straordinarie. Ma il fine di questa rappresentazione era questo, suscitare compassione, una partecipazione piena, attiva, mit Leiden. Non semplicemente una sofferenza, un dolore, ma un dolore con partecipare attivamente all'azione. Se manca questa partecipazione attiva all'attore non è tragedia, non siamo in presenza. Quindi una tragedia che non suscite questa partecipazione piena da parte del cosiddetto spettatore del Theoros, non sarebbe tragedia, ma anche paura. Paura e mit Leiden. Non c'è tragedia senza simpatia, ma la simpatia nasce da un senso violento di paura. Phobos, la stessa radice di Feugo, fuga, ma non è una paura che fa fuggire. Il nostro termine terrore, la radice di questo termine richiama due significati, che sono molto, la semantica di questo termine è duplice, perché da un lato ricorda il tremore, tremo, timore, tremore. Ma dall'altro anche trepo, il volgersi, cioè deve essere un phobos che non fa fuggire, ma che ci rivolge, che ci fa riflettere, non la fuga, non la paura che fa fuggire. Ah, che paura, che acceca, è il Theoros, colui che vede per eccellenza. Colui che vede per eccellenza sente paura, 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 terrore, ma è un terrore che lo rivolge, che lo rivolge, che non lo fa fuggire, ma lo spinge a vedere ancora con più attenzione, a soffrire, compatire ancora più intensamente. Lo rivolge a che cosa? A capire, a vedere che cosa. E questo si combina con l'idea di catarsi. Ripeto, senza paura, terrore autentico, senza il tremore, non ci può essere neanche il trepene, il rivolgersi. Senza tremeri non c'è neanche il trepene. E' chiaro che deve essere una paura autentica, una paura autentica, ma una paura che ci costringe a rivolgersi ancora più intensamente alla scena che osserviamo e a compatire con il dramma che osserviamo ancora più profondamente. Questa è la dialettica, la dinamica sulla quale dovremmo soffermarci. Che cosa? Quale dramma suscita questa strana dialettica? Paura in un fuggo, ma guardo ancora di più. Mi rivolgo a ciò che mi fa paura con ancora più intensità. Che cosa? E' quello, quel dramma che osservo. Ecco, all'eroe capita questo. Ecco, il destino ananche, ma vedi, ananche il destino, come colpisce l'eroe e nello stesso tempo l'eroe come non fugge, ma lo affronta il destino. Cerca di capirlo, di comprenderlo. Non è, non ha semplicemente paura del destino. L'affronta come Edipo, a Colono, che per Aristotele appunto è la tragedia per eccellenza. Teme, ha timore, tremore, ma vuole sapere, vuole vedere teoria, teoros. E lo stesso devono, la stessa dialettica deve cogliere anche lo spettatore. Vedo, ho paura di ciò che vedo, tremo di fronte a ciò che vedo, ma mi rivolgo a ciò che vedo con ancora più attenzione per comprenderlo, per saperlo. Così vince l'eroe cadendo, come dirà Helderlin. Così l'eroe vince cadendo. Il destino lo fa cadere, ma lui in qualche modo appare vittorioso. Non è così quando andiamo a vedere una tragedia greca, no? Ci appare vittorioso quell'eroe che precipita, colpito da ananche, che è colpito da ananche, che è la dea della tragedia, no? Nulla più potente di ananche, nessun dio più potente di ananche. Quindi questo è, ecco, paura. Che cosa? Certo, l'eroe gli è capitato questo. Può capitarmi questo? Come all'eroe è capitato questo da Edipo, è capitato questo da Iace, a Iace è stato colpito dalla follia, guarda cos'è capitato da Teseo, guarda cos'è capitato, eccetera, eccetera, eccetera. Può capitare anche a me. E sto separati. Perché può capitare anche a me. Quello che è capitato all'eroe. Ma quando capita all'eroe? Ecco il rivolgimento. L'eroe è lì, Agamè non arriva, vittorioso. Arriva a casa. Dopo tanta assenza, giunge a casa. È a casa. E la casa è quanto di più, quanto di meno casa si possa immaginare. Cioè, la tragedia mette di fronte, ecco la paura, alla possibilità, sempre aperta, sempre aperta, per l'eroe, figuriamoci per noi, sempre aperta, che la casa si rivolga nella massima inospitalità. Per usare quei termini noti tedeschi, no? Che Heim diventi unheimlich. Che la casa diventi quanto di più, che il paese diventi quanto di più spaesante si possa immaginare. Ecco, rigiungo ad Argo. Il mio paese è lo spaesante più radicalmente tale che si possa immaginare. La nostra dimora è sempre minacciata dal diventare la negazione della dimora. E l'arte suscita l'imitazione del dramma, del dramma, suscita questa paura. Ma tu non devi fuggire di fronte a questa paura, devi saperla vedere, affrontare, capire, essere pronti a sopportarla. Qui, naturalmente, nella tragedia abbiamo l'esempio massimo di questo legame che per me è proprio ontologico tra arte e terra. L'esempio massimo. Ma non è un fondo sempre così nella rappresentazione artistica. La rappresentazione artistica non vuole sempre metterci di fronte al più inquietante. immaginiamo una rappresentazione artistica, immaginiamo un fatto fatto da faccere, poesia, poesia. Un fatto artistico che non susciti questa paura e questa compassione. Non credo, no? In qualche modo questo elemento che la tragedia esalta e mette al suo centro questo tema, questa forma che mette al suo centro, non è un po' propria di ogni mimesi, di ogni mimesi, cioè di ogni rappresentazione. Non è sempre questo che fa la rappresentazione. Ecco, vi è uno straordinario. Ecco, accade qualcosa di straordinario nel tempo normale. Ecco, non segna sempre la mimesi una discontinuità rispetto al tempo normale, perché si fa una poesia, si fa un quadro, eccetera, se non per segnare una discontinuità, per spezzare il continuum temporale degli eventi, degli accadimenti. Ecco, cade questo. Cade questo e spezza questo continuo. E tu ne hai paura perché senti qualcosa di inquietante, senti qualcosa di straordinario. Ma l'arte nello stesso tempo ti invita a vedere meglio, non a fuggire. A soffrire insieme a lei. L'artista ha sofferto nel produrre quello e tu devi, mit Leiden, con soffrire, non fuggire. Non è un po' così sempre, ripeto, nella tragedia questo è tematico, no? Questo è il tema, il tema. Così come Aristotele giustamente ha visto, no? Ma non ci mette sulla strada di capire un po' l'idea di mimesi in generale? Credo di sì, ma procediamo. Si dice, vabbè, tu hai parlato della tragedia, hai sottolineato questo aspetto, ma c'è anche l'arte bella, no? L'arte che è armonica, l'arte che compone, con cinnitas, no? Vi è una bellezza che viene dalla armonizzazione compiuta e perfetta tra le parti. Sì, questa è una visione molto scolastica, molto assolutamente, come dire, ormai oltrepassata del concetto stesso di arte bella, no? Perché sempre, anche in questo caso, basta vedere, per esempio, scolasticamente si indica come il teorico moderno di questo tipo di arte, in parte fu letto così anche dagli realisti in Winckelmann, no? Ma se voi leggete le ultime pagine della storia dell'arte classica di Winckelmann, vedete quanto drammatico sia anche il suo accostarsi all'arte classica, quanto quanti elementi di nostalgia vi siano in lui, no? Come quella idea di bellezza sia un'idea che lui, più che constatare nell'arte classica, va in cerca nell'arte classica di questa armonia. Un po' come facevano anche i nostri umanisti, che andavano in cerca di questo, e poi trovavano anche nelle somme espressioni dell'arte classica non soltanto la misura, non soltanto la forma, ma anche quell'altro aspetto che Platone aveva così bene indicato. La mania, la mania, la follia, la mania poietichè. Sì, c'è la misura, c'è l'armonia, c'è la commisurazione tra le parti, bisogna cercare tutto questo, ma chi cerca tutto questo è anche un folle, l'oione, l'oione può essere anche letto in chiave ironica, ma quando nel simposio appunto vengono indicate le manie divine, le manie che manda il Dio, come sapete, accanto alle altre vi è anche la mania poietichè, che quindi è una mania divina, ma è mania. Ci sono tante parti di Platone che viene sempre ridotto, ma adesso riprenderemo questo tema, la sua cosiddetta critica delle arti e così via, che si capisce ancora assai poco, ma comunque tantissimi altri passaggi, come molti di voi sapranno, invece sottolineano proprio l'aspetto divino di questa mania. e d'altra parte anche nelle pagine in cui Platone più spietatamente sembra dare il bando alle arti si rivolge a loro, ricorderete, dicendo ospiti illustri, ospiti illustri, questo non è casa per voi, la mia polis non può ospitarvi, però li chiamo illustri, ospiti illustri, e la diaforà e la differenza con sé, con la sua filosofia, Platone la indica con un termine molto indicativo, significativo, cioè palaia diaforà, cioè è una differenza antica, originaria, non è una cosuccia da cronaca, momentanea, è la differenza. e la differenza qual è allora per andare subito in medias res? Già ci siamo, insomma, la differenza è questa che arte bella o no, certo, armonia con Cinnitas, eccetera eccetera, però prodotta da uno che è in uno stato folle, cioè straordinario, non quello del filosofo, quello del filosofo è lo stato ordinario davvero compiuto, è ordinario il nostro discorrere, è ordinario il nostro tempo, e il filosofo mette in ordine, in ordine, vuole mettere in ordine il discorso. Cosa fa Socrate? Si rivolge i suoi concittadini, il vostro discorso lo credete coerente? Cercate di renderlo coerente, cercate che sia ordinato, ordinario, ordinato. L'arte eccede costitutivamente questo statuto, la filosofia è prosa, e niente è più orrido del filosofo che poeticizza, a mio modesto avviso. È una questione di gusto. Il filosofo mette in ordine il discorso, lo rende coerente, fa sì che ciò che è ordinario non sia banale, non sia, sia appunto ordinato. E la città deve essere ordinata, e la città deve realizzare questa idea, questa regolativa idea, appunto, di incarnare l'ordine del discorso. E l'anima deve essere ordinata, le varie parti dell'anima vanno ordinate, composte, composte, come in medicina voleva Ippocrate. C'è una medicina dell'anima che sarà la filosofia che ti insegnerà a comporre le diverse dimensioni dell'anima, a farne una buona prosa. Lo straordinario, la mania, è anche della filosofia, ma ci sono dei passi appunto, ma la musica Socrate, il fedone, della filosofia è completamente diversa da quella del Phobos ed Eleos, Mitleiden. Perché diversa, sostanzialmente diversa, agli occhi di Platone? Perché mentre la musica della filosofia giunge a costituire, a costruire una dimora, giunge ad una conclusione, diciamola così volgarmente positiva, e così non avviene agli occhi di Platone per la mimesi artistica, non avviene. Non c'è soluzione, che soluzione dà al dramma la tragedia? Che soluzione dà al dramma? Qual è la soluzione? Una soluzione che la filosofia esige essere razionale, che la filosofia esige avvenga nell'ordine del discorso, non è certo una soluzione discorsiva quella del deus ex machina, per dire. Il Mitleiden non è la soluzione del discorso, è una compatire, non un comprendere, è un vedere e compatire, non un vedere e risolvere, no? Dà soluzione la mimesi artistica di che? E questo è il suo fine? No. Ma se la polis deve essere un ordine, deve rappresentare, incarnare l'ordine del discorso, ecco che questo straordinario inquietante che è la mania poeticae non può essere ospitata. È logico, è in contrasto con la città, è in contrasto con l'ordine prosaico della città. Questo lo dice Platone, ma lo dicono anche tanti autori contemporanei, che insistono nel dire esattamente questo, che la mimesi, chiamiamola così, questa rappresentazione artistica che non è imitazione, questa rappresentazione è qualcosa di straordinario rispetto alla prosa, al discorso, all'ordine della città, è qualcosa che in qualche modo giunge a contestare tutto ciò, e comunque inquieta, spaesa. è un trauma, certo, l'arte, è anche per Platone o lei, qualcosa di meraviglioso, ma tremendo, fa paura, è un trauma, certo, volete che Platone non capisse il meraviglioso dell'arte sua contemporanea, certo che capiva, lo capiva, era stato un giovane protagonista, lo capiva, ma questo tauma, questo meraviglioso, rimaneva tale, mentre la filosofia inizia dalla meraviglia, certo, inizia dalla meraviglia, rispetto a ciò che l'ente è, rispetto alla presenza dell'ente, ma giunge poi a dire anche che cosa è, a predicarlo, non può che originarsi dalla tauma, dalla meraviglia che è anche timore, perché la meraviglia è massimamente inquietante, ma la filosofia è, ha il dovere, è la sua missione di, attraverso un processo puramente razionale di rispondere al tauma, tu poeta lo fai, rispondi al tauma o lo mimesi, lo rappresenti e basta? Platone dice lo rappresenti e basta e no, la tua musica deve essere superata dalla musica della filosofia, musica, anche Platone usa questo termine, cioè siamo in ambito totalmente pitagorico, puro pitagorismo, quindi tauma, ma appunto un tauma che sconcerta e basta e la filosofia appunto deve riuscire a superarlo. Ma se fosse soltanto questo il discorso noi saremmo ed è possibile perché poi appunto la filosofia vedete non è non ha niente a che vedere con una cronologia, la filosofia è topologia, sono dei luoghi, dei topoi che ricorrono costantemente attraverso da un secolo all'altro, da un ottore all'altro, vanno, vengono, un labirinto, non ha alcun senso porre le questioni in ordine, Platone, Aristote, eccetera, 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 no. Se fosse soltanto questa la posizione platonica che è fondamentale per capire il concetto di arte nella civiltà occidentale, se fosse soltanto questa si porrebbe esattamente nei termini che la porrà secoli dopo Hegel e cioè il limite della mimesi, mi piace usare questa parola il limite della mimesi intendendo appunto la rappresentazione artistica il limite della mimesi sta nel fatto che non è concetto non è concetto e noi abbiamo bisogno di concetti non di rappresentazione di concetti è rappresentazione di un tauma certo potente chi esalta di più l'arte classica greca la tragedia di Hegel ma non è concetto e il nostro tempo ha bisogno ormai il nostro tempo che è il tempo della scienza della scienza ha bisogno di concetti non siamo più nel tempo in cui potevamo limitarci alla inquietudine che ci veniva di fronte all'immagine alla presenza di questa sofferenza di questo eccetera no noi dobbiamo volgerci da quelle ancestrali arcaiche paure alla luce uscire da quelle notti alla luce sto parafrasando proprio pagine di Hegel alla luce della idea cioè della scienza ricorderete che tutti che tutti questo termine scienza ricorre costantemente in tutte le opere dei grandi idealisti no Wissenschaftslehre questo è dottrina della scienza non filosofie leere Wissenschaftslehre dottrina della scienza questo è Fichte questo Schelling questo Hegel dottrina della scienza dell'esperienza la fenomenologia no eccetera scienza scienza ma se fosse soltanto così non capiremmo posta questo topos questo luogo in cui Platone e Hegel si possono incontrare non capiremmo la la forza della e la straordinarietà di questa mimesi che pure Platone ci indica è più avanti di Hegel viene dopo Hegel e chi capisce questo sarà Nietzsche che senza dirlo Nietzsche è pieno di Platone più in sopra la testa a differenza di quello che pensano i nicciologhi da strappazzo pieno di Platone tanto le prime lezioni lui le fa su Platone esalta Platone da giovane eccetera pieno di Platone Hegel l'aveva letto di seconda mano Platone l'aveva letto bene in greco come si deve eccetera e riprende quell'idea di Platone che è veramente l'idea centrale della critica platonica alla mimesi che invece non era in Hegel riprende Platone molto semplicemente su questo non è concetto non è concetto e naturalmente lo svolge concretamente nell'ambito dello sviluppo dell'arte europea di tutta l'arte europea nella sua grandiosa estetica che è il testo fondamentale insomma per capire qualcosa anche della stessa arte contemporanea le lezioni di Hegel sull'estetica e qui non sono tanto i testi canonici di Platone dove critica le arti la Repubblica in particolare a contare ma è da un altro dialogo dal Gorgia e poi anche dal Sofista dice l'arte è una tecne apatetiche una tecnica dell'inganno si potrebbe anche dire della seduzione ma la traduzione è debole dell'inganno della menzogna dell'inganno Nietzsche qualcuno di voi se lo ricorderà lo cita direttamente l'arte è l'arte l'arte è menzogna menzogna cosa intendeva per dire dicendo questo e questo costituisce il suo carattere più tremendo ed è per questo che va bandita non perché non è filosofia non perché non è filosofia ma perché è tecne apatetiche e in che senso è tecne apatetiche nel senso e qui si rovescia tutto il discorso che non è mimesi non è mimesi vada ti sembra mimesi ma non lo è fosse mimesi e allora sì magari è una mimesi debole è una mimesi che non sa è una mimesi che non è concetto ma nulla vieterebbe di porla nella prospettiva del concetto prima c'è la mimesi e poi c'è il concetto prima rappresento la cosa e poi la capisco perché ci dovrebbe essere una diaforà per questi due momenti non ha senso tutto si spiega quando si giunge invece al termine vero tecne apatetiche no e perché inganna perché pare mimesi e non lo è questo è il punto fondamentale dell'estetica platonica per così dire della revisione platonica che sfugge a Hegel ed invece fondamentale per capire tutto il discorso di Nietzsche sull'arte cosa si intende le tecne apatetiche in che cosa consiste questa apate questo inganno questo inganno dell'arte che è davvero ciò che ci deve far timore che è davvero ciò che ci deve far tremare sembra mimesi ecco mostra questo vedi ho rappresentato il bicchiere ho rappresentato la cosa ho rappresentato la casa ho rappresentato il letto no quello non c'entra niente col letto quella pipa non è la pipa non è la pipa non è sembra mimesi di ciò che è e invece è espressione di ciò che non è non è mimesi se fosse mimesi tutti i conti tornerebbero certo potremmo dire una mimesi che ancora non giunge al concetto vabbè no apate inganno a te pare che sia un letto non è un letto non c'entra niente col letto ti ho ingannato tu credevi che fosse un letto ti ho ingannato tu credevi che fosse il volto di quella persona ingannato tu credevi che fosse un paesaggio no non è un paesaggio non c'entra niente con le cose non c'entra niente con ciò che è esprimo il non è questo è diabolico per la filosofia la filosofia deve dire ciò che è il suo logos deve dire ciò che è che cosa l'ente è questa è la metafisica questa è la metafisica Nietzsche viva l'arte l'esempio della l'esempio originario che lo spirito europeo in qualche modo ha ingaggiato per un suo verso contro la metafisica non si può essere contro la metafisica senza essere artisti perché l'artista è la menzogna rispetto alla verità filosofica certo ma quale altra verità abbiamo sono quelle filosofico scientifiche chi di voi ha un'idea di verità diversa rispetto a quella filosofico scientifica questo è il tremendo questo è il tremendo ecco che appare tra le diverse forme del fare tra le diverse tecnai tecne apatetiche appare tra le diverse tecnai questo straordinario che incute timore che spaesa che inquieta radicalmente questa tecne apatetiche che fa segno a qualcosa la sua rappresentazione trattino espressione rappresentazione che è espressione ma espressione di che cosa direbbe dice Platone del non essere del non è di qualcosa che è irriducibile al piano dell'ente sembra un ente ma non è violazione del principio saldissimo del principio saldissimo di non contraddizione è e non è è come mimesi di ciò che non è ma come dobbiamo intendere questo come possiamo intendere questo cioè che nell'arte che nella mimesi artistica che in questa forma questa tecne che è l'arte ci appare appare si esprime appare una dimensione un qualcosa un quid che sfugge al giudizio provate a riflettere come diciamo non possiamo dire di fronte alla mimesi artistica è vero o è falso non esiste questa possibilità non è così che possiamo rapportarci alla mimesi ma facciamo momento a tutto ciò che abbiamo detto cioè appare in questa mimesi qualcosa che precede il giudizio precede o o e oltre non so cioè che non rientra nel giudizio che non può essere propriamente giudicato non può essere propriamente giudicato meglio diciamo non può essere giudicato secondo i criteri con cui giudichiamo in tutta la nostra ordinaria vita sfugge al giudizio tedesco ur tai non può essere tagliato un mondo appare ecco un mondo appare un mondo si impone che non puoi giudicare non puoi giudicare appare con i criteri del giudizio del giudizio filosofico del giudizio scientifico del giudizio razionale ma appare è è questo mondo è ma rispetto al mondo che possiamo giudicare non è e in questa contraddizione è stato lo spaisante l'inquietante perché se fosse semplicemente non è non è Parmelide non ha immagine non è non ha immagine no è ma non è assolutamente rapportabile a nessun'altra dimensione dell'ente è straordinario rispetto al resto dell'essente perché il resto dell'essente io posso giudicarlo posso comprenderlo nel mio discorso questo secondo i criteri del discorso non mi è comprensibile non mi è non posso non posso non rientro in alcuna categoria il categoreo in aristotelico è perché è e quindi non è semplicemente il non è non siamo nell'antitesi Parmenidea è non è la strada impraticabile per Parmenide no non è no è è un ente appare come un ente tra gli altri questa mimesi e tuttavia non è riportabile in nessun modo al resto alla totalità degli essenti in quanto essenti non appartiene alla loro polis non appartiene alla loro dimora quella che possiamo ordinare secondo giudizi vero falso ecco lo straordinario e l'inquietante la poesia poi esiste in senso platonico quindi che non riguarda soltanto la letteratura finge finge nel senso in tutti i significati del termine che il termine è in latino plasma finge un mondo finge un mondo che è oltre le categorie del giudizio oltre le categorie del giudizio e questo è l'inquietante e questo è l'inquietante che credo di cui facciamo esperienza ogni volta che ci avviciniamo come va fatto ingenuamente a un'opera d'arte che ci colpisca ci avviciniamo e sentiamo questo sentiamo che non è propriamente giudicabile propriamente giudicabile che dobbiamo ricorrere che ci che proprio ci inoltriamo in un territorio pieno di inganni avvertiamo quanto sia facile ingannarsi ma non lo avvertiamo come qualcosa che questo che questo ingannarci che questo che questo movimento di seduzioni continue a questo movimento siamo invitati dall'opera stessa che è e non è che non è imitazione che non è rappresentazione di qualcosa che è che è esposizione di un mondo ma l'esposizione di un mondo che non è collocato all'interno degli altri oggetti delle altre presenze eccetera come lo giudico se è questo mondo tutto suo che mi si impone e la cui peculiarità sta proprio in questa sua proprietà distinta in questa sua assoluta distinzione come faccio a giudicarlo laddove il giudizio è un giudizio universale è chiaro le categorie aristoteliche che si applicano per ogni ente per tutti gli enti questo mi pare sia l'elemento più inquietante che è ricavabile dalla critica platonica ed è abbastanza straordinario penso che proprio questo sia l'elemento che ritorna con forze in Nietzsche laddove Nietzsche vede nell'arte è proprio l'energia prima che scardina appunto la prospettiva metafisica e questo era ciò che inquietava davvero profondamente appunto Platone che di Mimesi se ne intendeva assai e la ragione per cui era costretto a malincuore forse dire ecco nell'ordine della polis l'arte non deve entrare e ripeto che è una cosa che viene ripresa in tanti autori contemporanei Grotowski Battagli ripreno sì è vero è proprio così è un elemento disturbante un elemento necessariamente inquietante è un elemento che che non può essere accolto nell'ordine della polis che è in lotta con l'ordine della polis che è l'ordine del giudizio che è l'ordine del giudizio la poesia tocca tocca questo questa dimensione arcaica a me piacerebbe dire rispetto archè rispetto al giudizio il giudizio è divisione è distinzione ma se il giudizio è divisione e distinzione bisogna pensare ad un archè che non lo è ciò che si distingue ciò che si divide e non presuppone un'unità se no che cosa si divide quindi è a questo domando è a questo che fa riferimento è di questo che vuole fare segno questa straordinaria mimesi a questo a quest'archè rispetto alla forma del giudizio al taglio che il giudizio produce a un immediato rispetto alla mediazione che il giudizio costantemente il giudizio è mediazione il giudizio è relazione e mediazione Aristotele lo insegna continuamente e la logica contemporanea lo riprende è sempre logica di relazione invece non è l'immediatezza che tocca questa mimesi non ci si presenta sempre questo testo quest'opera come qualcosa di immediato come qualcosa di suo proprio non si insiste sempre anche dal punto di vista critico che bisogna tornare al testo al testo cosa significa filosoficamente insistere su questo se non che c'è una immediatezza che costituisce il proprio della mimesi immediatezza tocco l'immediato questo testo non può essere messo non può essere mediato o meglio il suo significato il suo valore non consiste nell'essere mediato ad altri è il vero artista non è questo che esige sempre il mio testo questo testo è immediato è questo in contrasto con ogni impostazione appunto storicistico relativistica non è non è per questo che godiamo di un testo che godiamo di una pittura per questo che ci da ci suscita la sensazione di toccare un immediato e ma ciò non fa problema rispetto all'ordine dell'oro certo un enorme problema perché nell'ordine del discorso invece tutto è relazione tutto è rapporto e nulla si può spiegare da sé vi è una differenza vi è una palaia di afforà che occorre tenere a mio avviso ferma in questa prospettiva tutta platonica si può capire si possono collocare i movimenti fondamentali poi dell'estetica contemporanea a partire dall'idea kantiana di sublime da romantico fino alle fino alle espressioni più radicali dell'arte contemporanea cioè nella prospettiva del del comprendere sempre di più che la che la mimesi o che la tecne artistica la sua mimesi è libera da ogni impegno propriamente mimetico si Kant distingue il bello da mai già il bello dice vabbè qui rientra una forma del giudizio che non ha nulla a che fare e specifica questo elemento fondamentale tematizza questo elemento fondamentale che abbiamo recuperato con altre parole finora appunto che se ci sarà un giudizio estetico certamente non ha nulla a che fare con il giudizio dell'intelletto no questa distinzione operata fondamentalmente non ha nulla a che fare non è che sia un giudizio più povero non è che c'è una forma di conoscenza inferiore diminuta eccetera eccetera no è un'altra cosa è un'altra cosa lasciamo perdere adesso quei colossali problemi teoretici suscita questa distinzione in Kant no perché Kant poi c'è il problema anche di come come dire nella nostra anima tutte queste diverse forme del giudizio possono combinarsi e lì non trova il rapporto libergang il passaggio qui andremo troppo sul tecnico ma è fondamentale questo la comprensione piena appunto all'inizio alle origini dell'estetica propriamente contemporanea è che appunto la mimesi la tecna artistica è libera da ogni impegno mimetico e quindi per questo altresì libera dalla forma libera tra virgolette dalla forma del giudizio dell'intelletto del giudizio intellettuale questo vale anche per il bello per il sublime emerge quell'altro elemento che abbiamo visto e che dà il titolo a questo incontro è l'elemento proprio del timore del tremore perché la vera il vero bello poi è propriamente il sublime cioè il vero bello è quello che spaesa che inquieta che non ha nulla a che fare con un'idea vecchia di arte bella che in canta c'era per vari motivi ma non ha niente a che fare è spaesa inquieta proprio perché non è in alcun modo riconducibile a quei caratteri di concinnitas di armonia eccetera che per Platone invece valevano anche per l'arte no? perché Platone non ce l'aveva con l'arte ce l'aveva con quanto abbiamo detto se poi tu invece facevi una una musica propriamente pitagorica senza il flauto del fauno andava pure bene no? bastava che non si sentisse quel suono alogos alogos che il logos non riusciva a acchiappare a comprendere in sé ma Platone è il primo sapere che quel flauto nella mime artistica c'è sempre mania poetica mania poetica quindi appunto liberarsi da ogni impegno mimetico è iscritto con tutto ciò che di inquietante di spaisante porta in sé è iscritto nella ontologia a mio avviso del fare artistico e e e come ecco per per giungere a un altro punto abbastanza già quasi conclusivo insomma e come è questa 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 così inquietante libertà si si espone nella nell'arte nell'arte dell'occidente così come Hegel di nuovo la ne comprende la storia appunto all'inizio del contemporaneo ma ripeto insomma se poi si vuole capire qualcosa di quello che segue è da lì che occorre partire com'è che chi appare ecco allora sì l'arte l'arte è arte è arte sublime che va al di là che cede sublime no che cede il limite della mimesi che cede ogni limite mimetico che cede che cede ogni cornice è il destino dell'arte dell'occidente questo non è una rivoluzione è il destino dell'occidente questo ci spiega Hegel cosa vi stupite è il destino dell'occidente il liberarsi della mimesi da ogni impegno mimetico come si pone in questa epoca però ecco il punto storicamente decisivo come si pone questa questo questo al al limite estremo del romantico romantico per Hegel e per lui dovrebbe essere non è un periodo strettamente poi può essere anche inteso come un periodo storicamente determinato ma è l'arte romanza l'arte dell'Europa o cristianità l'arte che si sviluppa in occidente a partire dall'alta cristianità a partire dai primi secoli del medioevo ma più propriamente è quell'arte per Hegel è chiarissimo che in occidente nell'occidente europeo inizia con la grande rivoluzione del duecento appunto con il diciamolo pure con un'immagine che tutti immediatamente capiscono con l'immagine del deus patibilis lì è la rivoluzione no? lì è la rivoluzione ma non soltanto in pittura anche in letteratura Dante deus patibilis quella dal bizantino al deus patibilis l'occidente l'arte romantica occidentale deus patibilis il dio in croce cimabue lì inizia lì inizia la rivoluzione un'arte cioè una mimesi che mostra mostra per Hegel ma credo che sia molto semplice svolgere da tutte le parti questa idea no? mostra la contraddizione non la sintesi la conciliazione ma la contraddizione tra umano e divino ecco lo scandalo che in qualche modo si ripropone in termini diversissimi all'altezza della nostra arte occidentale per Hegel rispetto a Platone mostra la contraddizione come la tragedia facciamo questa analogia un po' un po' audace ma insomma come per Platone la tragedia mostrava sì i dolori il dramma degli eroi ma non dava a questo dramma alcuna risposta chi sei tu Zeus come ti devo chiamare ma ti mai contrapposte dicai non diche non la giustizia ma giustizie diverse Oreste come ti devo chiamare Zeus la tragedia ti caccia nel dramma ti caccia nel dissidio non ti libera arrivo io la filosofia allora ti dico chi è Dio e glielo dice Platone glielo dice Aristotele Dio è buono giusto non ha colpa nelle tue sciagure eccetera eccetera così Hegel l'arte romantica che nel suo impegno che nel suo impegno a liberarsi da ogni mimesi nel senso corrente del termine prosegue quello che è un destino dell'arte occidentale per Hegel rispetto a tutte le altre civiltà artistiche degli altri popoli che si ripetono l'arte invece in occidente è una rivoluzione permanente come le sue forme politiche come tutto è inquietudine assoluta inquietudine assoluta dice Hegel ma il problema di questa civiltà il rapporto tra umano e divino tu arte romantica me lo mostri soltanto nella forma del puro dissidio del puro dissidio arte romantica cioè arte dell'Europa occidentale arte dell'Europa o cristianità occidentale Deus patibilis che Deus che Deus dove sta è la sofferenza dell'uomo il dramma dell'uomo tu arte non mi mostri la conciliazione mi mostri ora il crocefisso dietro la risurrezione che c'entra nulla emblematica la grande opera di Grineval con emblematica la più stupefacente e tragica delle immagini dell'uomo in croce e dietro un corpo risorto che con quello in copertina direi non c'entra assolutamente nulla dissidio dissidio come hanno capito benissimo gli orientali da Dostoevsky a Florensky eccetera eccetera hanno capito benissimo come si fa a credere che quello sia Dio ricordate l'idiota come si fa a credere che quel deposto di Holbein sia Dio ho perso la fede vedendo quell'immagine il dissidio mostra l'arte occidentale il dissidio il dissidio io Hegel ora ti mostro come vada compresa la Trinità come vada compresa la sintesi l'accordo tra l'umano e il divino quale sia il modo in cui sulla croce spunta già la rosa della risurrezione al centro della croce sboccia la rosa il motivo rosacrociano di Hegel eccetera 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 io filosofo posso discorrerti esporti un logos su tutto ciò tu artista no assolutamente non puoi ed è vero ed è vero ed è assolutamente vero o l'impegno antimimetico giunge fino alla idea allora lì c'hai il simbolo della croce senza il croce fisso o c'hai il croce fisso senza la croce come fai a mettere insieme le due cose con il discorso con l'immagine come con il discorso l'immagine però una potenza inquietante nei confronti del discorso inimmaginabile proprio perché ribadisce il dissidio non è che dimentichi il dissidio e si presenta come una mimese conciliante no tu capisci benissimo il dissidio quando vedi il Cristo di Cimabue capisci il dramma che in quel in quel Cristo Cimabue non riusciva a metterci anche la risurrezione capisci che la parola gli manca e questa è la grandezza di questa mimese il ribadire costantemente il mostrare costantemente che la parola manca la parola è di cosa no che il dissidio rimane rimane che la contraddizione non è conciliabile questo è il il grande Goethe che muore negli stessi anni di Hegel e quando dice sì il commiato parla del commiato io devo commiatarmi all'idea di accordare divino umano mi ha commiato da questa idea addio il vecchio saggio Goethe saggio ma non nel senso banale il termine saggio perché ha sofferto quanto poteva soffrire dando alla sofferenza forma non sbrodolando sofferenze dando alla sofferenza forma divino umano non possono essere altro che quella croce Hegel in cui sboccia la rosa ma che pastizio ma che orrore d'immagine anche ma che gusto mi hai ci sono dei passi di Goethe nei colloqui con Eckerman che è vero un'enorme stima di Hegel Goethe ma lì quando legge gli capita di vedere gli portano anche la medaglia commemorativa che gli allievi avevano fatto a Hegel eccetera queste immagini conciliative gli fanno un orrore anche dal punto di vista estetico del gusto ma che roba è il dissidio non è conciliabile e questo è il proprio della mimesi che rispetto al tentativi alle ricerche direi alla superbia con cui il logos cerca di mostrarti ed accordarti dimostrarti l'accordabilità l'armonizzabilità di divino umano di idea ed esistenza di idea ed esistenza ho l'idea ma farla esistere ho l'idea ma rappresentarla adeguatamente la parola manca ho l'idea ma come faccio a farla esistere l'idea naufraga costantemente sugli scogli dell'esistenza diceva un filosofo da giovane naufraga costantemente contro gli scogli dell'esistenza ma potremmo dire anche l'esistenza cerca costantemente in vano la 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 conciliazione con l'idea l'esistenza quel Cristo crocefisso cerca di conciliarsi al divino e il divino naufraga su quel corpo mutilato disfatto lacerato piagato danno di cozzo l'uno con l'altro ma nel loro dare di cozzo dicono alla filosofia la contraddizione rimane la contraddizione rimane potremmo dirla così che da questo punto di vista Hegel dal suo punto di vista capisce assai bene come il tratto che l'arte dovrà assumere a questo punto il carattere che dovrà assumere quella di essere la morte dell'arte che va inteso in senso specifico Hegel non si è mai sognato di dire che basta non c'è più arte non ci sono più artisti non c'è più arte no che l'arte aveva a che fare costantemente a questo punto a questo punto della storia dell'occidente avrebbe avuto a che fare con la morte con la morte che questo sarebbe diventato il suo tema cioè il trapassare nel senso del trapassare in tutti i sensi il trapassare dell'esistenza nell'idea e dell'idea nell'esistenza costantemente trapassare cioè morire l'una nell'altra e viceversa un trapassare continuo e l'arte vive nella dimensione del trapassare vive nella non può vivere nella dimensione né del divino né dell'umano e basta ma neanche può essere la conciliazione dei due ma è il trapassare costante dell'una dimensione dell'altra e in questa dimensione del trapassare cioè del morire vive vive non è non è così a me pare che sia proprio così e e quindi il punto fondamentale di questa mimesi straordinaria inquietante inquietante inquieta costituzione ontologicamente inquieta perché sta nel trapassare sta nel trapassare non può arrestarsi sta nel trapassare il punto del trapassare è che cosa è l'attimo è l'evento è l'evento è l'evento è l'evento questo è il carattere no proprio eventuale nel senso filosofico del termine che questa mimesi assume e vorrei chiudere leggendovi una pagina una pagina straordinaria del giovane Hegel dalla real filosofia di Iena precedente alla fenomenologia dove 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 non parla dell'arte della mimesi della tecna artistica eccetera eccetera non è una pagina che riguarda l'estetica o la filosofia dell'arte però è una pagina che secondo me potrebbe consentirci di illuminare davvero certi momenti del di questa di questa arte del trapasso di questa morte dell'arte nel senso proprio del termine cioè l'arte ha a che fare con la morte perché l'arte fa allora quella di cui abbiamo parlato fissa il proprio sguardo appunto sulla sull' sull' istante sull'evento istante in cui l'idea trapassa nell'esistere e l'esistere trapassa nell'idea senza che possano mai stare né l'una né l'altra né darsi la loro conciliazione ma l'arte fissa il suo sguardo su questo evento vuole vederlo vuole starci di fronte e dice Hegel che così deve fare in questo consiste anche in questo consiste il guardare nell'altro è una pagina che riguarda il guardare nell'altro immaginatevi appunto l'artista guarda l'idea l'idea facciamola esistere trapasso nell'esistenza e perdo l'idea esistere l'esistenza questo corpo ma questo corpo significa trapasso nell'idea e perdo l'esistere e la mia mimesi è questo trapassare continuo incessante attraverso l'evento che segna il momento del trapasso ma non è lo stesso che avvertiamo quando guardiamo il volto di un altro quando guardiamo il volto di un altro non entriamo esattamente in una dimensione altrettanto inquietante altrettanto spaesante e che impedisce ogni superiore sintesi non riusciamo a trovare un accordo non riusciamo a trovare un'armonia con l'altro quando ci sprofondiamo dentro il suo sguardo trapassiamo in lui non è un trapassare intendersi non è un penetrarsi e trapassare nell'altro ma un trapassare dove in ogni istante ci perdiamo e se vogliamo invece ridurre l'altro a noi perdiamo l'altro non è un po' questo che ci fa intendere appunto quella straordinaria tecnica che è l'arte dice Hegel quando entro nello sguardo di un altro è come entrassi nella notte più profonda ma in questa notte ecco ma in questa notte improvvisamente balzano fuori teste insanguinate poi balza fuori un'altra figura bianca e poi improvvisamente scompaiono è tutta una notte piena di figure di questo genere che si vede quando si fissa negli occhi di un uomo si penetra in una notte spaventosa qui ad ognuno sta sospesa di contro la notte del mondo non è questo che tocchiamo nella in quelle in quelle in quell'arte che davvero ci inquieta ci interroga non è questo che tocchiamo non è quella che ci ha portato a guardare appunto nella notte del mondo a me questa pagina di Hegel ha sempre fatto venire in mente di volta in volta non so la chinta del sordo di Goia un autoritratto di Van Gogh quella disperata volontà di penetrare penetrarsi di certi nudi di Schiele o una crocifissione di Francis Bacon no penetro voglio trapassare ma trapassare e morire voglio trapassare esistenze idee di esistenza questa manifestazione artistica sta nell'evento del trapasso ma trapassare e morire quindi io penetro in una notte è una notte nero su nero quadrato nero su quadrato nero ma da quel quadrato nero emergono ogni tipo di apparizioni di fantasmi di volti uno straordinario carnevale se volete una fantasmagoria di immagini ma nella notte nella notte nella notte non vi è la luce del concetto a illuminare ma tu concetto che pretendi di avere luce di illuminare dove metti il trapassare dove 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 che la tua luce illumina l'evento del trapasso che è il mio dominio mio di arte dominio il trapasso e non è il trapassare la forma del contemporaneo e tu dove me lo illumini filosofia dove come me ne fai un concetto quando fai illumini e fai concetto tu elimini il trapassare la tua idea non può comprendere in sé questa notte questa notte in cui io penetro guardando negli occhi dell'altro o penetro guardando un autoritratto di scile un Cristo di bacon le immagini della chinta del sordo di goia lì tu non penetri la tua luce lì non penetra questo significa che cosa una superiorità dell'arte rispetto alla filosofia no significa una palaia di afora ma in questa palaia di afora nessuna gerarchia è possibile nessuna superiorità dell'uno dell'altro è possibile dissidio dissidio un dissidio da ricordare continuamente da rammemorare continuamente da approfondire continuamente naturalmente alle luci delle esperienze che filosofia e arte fanno ma sono tutte le esperienze nuove diverse ma comprensibili a mio avviso soltanto sulla base di questi presupposti filosofici teorici storici che ho cercato appunto brevemente di indica di indica di indica posso fare una riflessione Perfettamente illuminante il concetto di trapasso tra quella che io definirei realtà obiettiva e realtà o mondo obiettivo e mondo soggettivo. La filosofia si occupa del mondo degli oggetti che è obiettivamente misurabile e quindi il mondo della scienza. Ma il mondo del soggetto, la scienza non può affrontarlo e quindi è l'arte che se ne occupa. Ma non sono d'accordo con quello che dice lei perché l'arte debba rappresentare il tremendo. Il soggetto ha il tremendo, sì, il buio, la morte, ma anche la vita, la rinascita. Amore e odio sono due realtà soggettive che una non può escludere l'altra. E quindi l'estasi, l'estasi è un'esperienza soggettiva che la scienza non può capire né descrivere, e ce ne freghiamo, tantomeno la filosofia, però un quadro può esprimere, può esprimere, può alludere, perché giustamente come dice lei io non posso rappresentare a un altro soggetto la mia realtà soggettiva. Mi servo di un medium tanto per, è servito per me, Van Gogh, è servito per me. Io ho avuto un momento estatico, cerco di raffigurarlo. Quando io lo rivedo mi suscita quell'esperienza. Forse la stessa cosa avviene in qualcuno che mi osserva, un soggetto però. E allora questo trapasso è una complementarietà, non un conflitto, una contraddizione fra il mondo del soggetto e dell'oggetto. Occorre l'uno e occorre l'altro. Quando uno dei due mondi cerca di sopraffare l'altro, e allora arriviamo nel male. Cioè il romanticismo, l'illuminismo, abbiamo visto a cosa ha condotto l'illuminismo, alle forche, al sangue, abbiamo visto a cosa ha portato il romanticismo. Quindi occorre un po' una mediazione. C'è bisogno che il soggetto con il suo linguaggio si esprima e che il filosofo con il suo linguaggio esprima ciò che è obiettivo. Grazie. Grazie. Caro Massimo, volevo solo aggiungere qualche osservazione dalla mia tarda età. Condivido e sono rimasto affascinato dalla tua narrazione. volevo soltanto dire che ho la sensazione che il mondo è cambiato profondamente e che praticamente non è più il pensiero che significa la vita, ma è che è la vita che significa il pensiero. In poche parole si passa dal cogito ergo sum al sum ergo cogito. Ecco, questa è la mia convinzione e praticamente per queste ragioni finite le grandi narrazioni, finiti i grandi punti di riferimento, il pensiero condiviso, oggi la dimensione individuale della coscienza si fa carico dei valori. Parlo della categoria dei valori in generale, tra i quali c'è quella categoria di cui tu hai parlato, che è quella del non c'è, non è. Se vuoi l'indeterminazione di Heisenberg in realtà anticipa questo, anticipa un nuovo ruolo della ragione che diventa levatrice del parto e non più con capacità partorienti. Quindi da questo punto di vista, ecco, le questioni che volevo porre erano semplicemente questi, cioè a dire questa trasformazione, ripeto, modifica il rapporto tradizionale tra dimensione collettiva e dimensione individuale della coscienza. La dimensione collettiva muta pelle, non è che diventa cattiva e rifiuta e guarda da un altro lato, ma muta pelle profondamente e la soggettività non è più il soggettivismo, cioè a dire quella dimensione individuale che si diceva è una tua opinione, poi c'è la voce della storia, ma semplicemente diventa la nuova voce della storia. Se io vedo un artista, oggi non posso fare altro che dire sento che è un artista, ma non posso utilizzare altri codici, non ci sono più. Tra l'altro c'è un problema, e concludo, che la vita oggi che è diventata centrale, soprattutto vita intesa come voler vivere, quindi non soltanto una vita in cui io vivo, ma in cui io ho la coscienza di dover vivere, tanto che si dice che i giovani non hanno più voglia di vivere. Allora da questo punto di vista, questa vita, vita anche per certi aspetti consapevole, ormai autorizza tutti in quanto vivi, cioè riutilizza quel concetto di Lenin, i fatti sono testardi, dicendo è testardo il fatto che vivi. Se vivi hai già raggiunto, se così può dire, hai superato un'infinità di prove, e hai diritto non solo a esistere, ma a dire, il genitore che picchia il maestro, non è che si può liquidare, scende un cafone, eccetera, eccetera, ma è un mutante. Questo è il punto che cercavo di dire. Ora, tutte le cose che tu hai detto sono stupende, e come tutti ti ringrazio tantissimo di questa grande lezione importante, però c'è un punto fondamentale che è la difficoltà, per esempio, a elevare a livello di categoria non c'è. Il non c'è di cui tu hai parlato spesso. Cioè a dire, se io dico il mistero è un motore della conoscenza, sono tutti d'accordo, ma se io dico il mistero è una nuova categoria che entra di prepotenza nella storia, se io dico che oggi c'è il superamento in atto tra metafisica e fisica, tra la fisica della storia e la metafisica, poche parole, Dio è l'io, l'io è Dio. Ecco, se dico tutto questo, io oggi lo comincio a sentire nella realtà. Ero solo alcune domande rapide, e ti ringrazio. Domande rapide ma complesse. Dunque, molto rapidamente, soggetto, soggettività vuol dire tutto, vuol dire niente. Cioè è chiaro che in qualche modo siamo costretti a partire da noi, dal soggetto, certo, questa è l'eterna verità del cogito, non c'è nessun sum che non sia un pensato, non c'è nessuna cosa che non sia un pensato. Vi risulta di aver incontrato una cosa che non sia ciò che pensate? c'è nessuna cosa in sé, no? Però, nello stesso tempo, è altrettanto vero che posso rovesciare la cosa, perché io che penso sono. pensiero è un pensiero che è, non è cogito, ergo sum, pensiero è o non è? È. Quindi si potrebbe anche rovesciare la cosa, come è stato detto, e poi tante altre cose che complicano il cogito, ergo sum, ma quello che è fondamentale da capire è che tutto il discorso che si è fatto e che è la grandezza anche dell'indicazione hegeliana è che l'arte contemporanea con la soggettività non ha assolutamente niente a che fare. Niente. È tutto un tentativo di mimesi, rappresentazione di ciò che si è detto, rappresentazione oggettivissima, ma tutti i grandi artisti contemporanei, io, soggetto, io, ma cosa, scherziamo? Un mondo, questo mondo qua sono io. E' stato detto la contestazione appunto, ma è già in Hegel era chiarissimo che l'estremo del romantico era la negazione del carattere, come dire, soggettivo dell'espressione artistica. Il problema sta nel capire questa forma, che cosa è questa forma sostanzialmente, essenzialmente, dove, qual è la dimensione di questa forma? È possibile dare un'indicazione a questo proposito? Possiamo anche dire no, non è possibile. Anzi, forse, le tendenze più contemporanee sono appunto quelle di far esplodere questa domanda. Questa domanda non ha senso in sé, è un'esplosione. non è più possibile porre la domanda c'è una forma? Per Hegel, lavorandoci sulle sue idee, secondo me può risultare questo, è quella del trapassare, il passaggio in Werk, è l'opera del passaggio, è il momento, è la rappresentazione dell'istante del passaggio, che sempre ci sfugge, che sempre non è catturabile, che sempre non è comprensibile concettualmente, da qui, la sfida, la provocazione rispetto ad ogni discorso di ordine filosofico. Ma sia gli uni che gli altri si muovono in una sfera che vuole superare la dimensione della soggettività. Il voler vivere, tu dici, il voler vivere, ma il voler vivere il non è, non è per l'arte, non è non è, non è per l'arte è ficcare lo sguardo in quella notte, quello è il non è, è il non è di quell'ente di cui tratta la filosofia e la scienza, ma non è il non è in assoluto, non è il niente assoluto, è voglio ficcare lo sguardo in quella notte, e in quella notte esplodono quelle immagini, oggettive esplodono quelle immagini, sono quelle immagini, io mostro quelle immagini che mi esplodono in quella notte e che non sono il prodotto della mia fantasia. quindi questa è la notte, il voler vivere è l'opposto del discorso che abbiamo fatto, il voler vivere, ma non è tutta una sfida alla volontà di durata, ma è tu, la durata, la durata è la durata di Kronos, è la durata di Saturno, è la durata ma l'arte non è una sfida alla durata, e tocco l'istante quello, il testo questo, il questo qui, il Dasein, il riportarti costantemente sulle dimensioni dell'esserci qui, nella sua singolarità, non è questo il carattere, questo è il singolare, non è questo che difende estremamente l'artista, la singolarità del suo gesto, la singolarità del suo atto, ed è singolare che quando contesta questa singolarità, no? Perché allora diventa, cioè, è un'operazione che spaesa lo spaesante, ecco, E se vedo, vedo, voglio che sia perfettamente riproducibile, ah, guarda, ma la riproducibilità si, 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 si relaziona appunto con l'idea che tu hai della singolarità, per quello diventa un qualcosa di significativo, perché se fosse semplicemente la riproducibilità, beh, riproducibilità, riproducibile, tutto, perché inquieta, perché inquieta sull'inquietante della singolarità, volevi la singolarità della tua opera, no? Adesso te la colloco in una dimensione di riproducibilità e questo ti spaesa, no? e quindi siamo sempre in questa, in questa dialettica, in questa dialettica in cui tu hai a che fare con qualcosa che ontologicamente inquieta, ontologicamente spaesa, sei soprattutto nell'arte contemporanea laddove vorrebbe mostrarsi normale, non è questo il meccanismo che, che, che induce meraviglia e timore, no? Anche nei confronti della pop, eccetera, non è questo il meccanismo. Quindi, il voler, quindi, siamo sempre in una situazione in cui ti, 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 ti sradichi dal, dal voler vivere, e c'è di quel contesto che è proprio del tempo durata, proprio laddove invece, adesso ti rappresento il tempo, è mimesi del tempo durata, è mimesi del normale, ma è mimesi, ma come, è mimesi, ma non c'è bisogno di nessuna mimesi nel tempo normale ed è la semplice durata. il fatto stesso di volerla mettere in un testo la rende qualcosa che non è più, di nuovo la tecna pateticae, di nuovo la pate, è questo, è un letto, no, non è un letto, non ha niente a che fare con un letto, è un oggetto del consumo, è un oggetto, è riproducibile tecnicamente, no, questo no, questo no, questo è un testo, questa è una singolarità, e naturalmente qui c'è tutta una componente anche che Hegel aveva visto benissimo, ironica, ironica, la dimensione della ironia nell'arte romantica, nell'arte del romanticismo estremo, questa dimensione è fondamentale, ma non fa parte, se voglio capirla filosoficamente, non fa parte questa dimensione proprio di quella tecna pateticae, non era anche questo un elemento già destinato nell'idea platonica della tecna pateticae, il momento della ironia, vediamoci se ci sono altre domande, se non c'è il microfono non riusciamo a sentire, scusate, aspetta, allora magari cosa io? Eh niente, posso? Allora, praticamente, non so se ho capito male alcune cose, ma mi sembra che ho capito che la filosofia tende il concetto ad elevare, ad essere in contrasto la ragione con la città, cioè che la città deve essere sottomessa in qualche maniera ordinata, la filosofia è ordinata, ecco lei mi sembra che ha detto così, e che la città deve essere in questo modo razionale e quindi ordinata. Ma io sono un po' architetto per cui magari mi ha colpito un po', cioè la città invece è più espressione dell'arte, che è la città medievale, in realtà è quella che ci affascina di più, la razionalità oggi la troviamo nella periferia, nell'architettura più funzionale, invece quella che tutti vengono a vedere è la città della bellezza, cioè quella che magari non è funzionale o era funzionale all'epoca, ma che ha saputo sempre introdurre anche nella Mimesi della natura, nella Mimesi della natura ha cercato di introdurre Vedi Rococo eccetera, c'è tutto un mondo che ancora oggi affascina, non so se la città razionale, quella di Le Corbusier, quella di Gropius, per quanto bellissimi a vedere, stimabilissimi, potrà affascinare in futuro. Ecco, questo senso dell'espressione dell'arte, della sua possibilità di comunicare, penso che sia molto importante anche il rapporto poi alla razionalità della filosofia. Volevo chiederle se era condivisibile. io soltanto volevo chiedere il rapporto di arte come necessità partendo proprio dall'espressione di Nice su l'arte mi è data per impedirci di morire di verità. Cioè allora è un inganno necessario e questa dimensione che vorrei che un attimo grazie. Volevo sapere scusi se il sublime è il vero bello cosa resta del bello? C'è Alberto guardi guardi qua lì fantasticato va beh allora chiudiamo qui ma qui non è questione di centri storici di periferia eccetera questo era il tentativo che ho fatto di spiegare quanto fosse importante da un punto di vista di riflessione generale sull'estetica europea eccetera eccetera la cosiddetta critica platonica all'arte perché fosse incompatibile non con qualche città ma con la sua città ideale che non è un'utopia astratta è molto realistica sotto molti aspetti la repubblica la politeia platonica che poi si dovrebbe dire la costituzione della città ecco non la questa o quella città ma la costituzione della città finché la città stia sia una callipolis come dice Platone la città sia callos in greco non vuol dire bello vuol dire in forma vuol dire integro vuol dire funzionante anche vuol dire anche utile utile e ecco da questo punto di vista non c'è dubbio che appunto per tutti i motivi che ho cercato di dire l'arte la mimesi artistica così come appariva in Platone in particolare quella tragica apparisse incompatibile con la callipolis con una città integra ben funzionante d'altra parte lei citava la città medievale e così via le Corbusier viene da lontano basta leggere una pagina del discorso sul metodo di Cartesio e vedi appunto come Cartesio dicesse beh ormai siamo in un'epoca della ragione eccetera eccetera il cogito siamo usciti dal mondo del pressapoco ma cosa ci stanno a fare allora ancora queste città con tutte queste viute così incasinate eccetera eccetera eh qua città fatte a caso dice dice Cartesio queste città fatte a caso sono appunto in contraddizione con la mia idea di razionalità sono città fatte a caso bisognerebbe che le città venissero fatte dagli ingegneri e queste invece sono una città fatte dagli ingegneri e poi gli interventi sulle grandi capitali europee nel corso dei decenni e dei secoli successivi sono state fatte da ingegneri che hanno appunto le hanno hanno spianato hanno fatto le grandi stradone hanno eliminato le città la città medievale praticamente ovunque rimane e rimangono questi centri storici rimane il patrimonio culturale no? il patrimonio culturale c'è una pagina bellissima di Benjamin sul patrimonio questo patrimonio culturale diceva come una sorta di bottino il patrimonio è un bottino è che bisogna però non bisogna abbandonare bisogna ripensarlo bisogna sottrarlo in qualche modo questo bottino ai vincitori agli Osman eccetera eccetera quelli che ti hanno combinato su le grandi capitali europee negli ultimi secoli e poi lasciandoti come bottini i centri storici bisogna in qualche modo recuperarne la memoria sottrarli al bottino dei vincitori e sì sono d'accordo con la sua è necessaria certo è necessaria è necessaria perché altrimenti si afferma soltanto quella verità per Nietzsche metafisica che pretenderebbe di dire l'ente in verità per com'è ma lo dicevo alla fine ma in quella tua luce meridiana Hegel trapassare c'è esiste l'esserci per la morte che fine ha fatto ecco allora bisogna bisogna stare attenti di non morire di verità certo di quella verità di quella verità che si pretende la verità e quindi è necessaria è necessario l'inganno è necessario l'inganno che mostra come come non vi sia soltanto la dimensione dell'è che si può predicare catalogare categore eccetera eccetera ma una dimensione dell'è che sfugge una dimensione dell'essente che sfugge al categorizzabile e questo fa toccare l'arte questo immediato questa archè precedente la distinzione la differenza urtà il proprio del giudizio fa toccare il testo quel testo sì la differenza è essenzialmente quella è la differenza essenzialmente quella che del 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 bello in quanto il bello presenterebbe determinati caratteri che sono in qualche modo misurabili eccetera concinnita sarmonia simmetria e via e via ed è il bello possiamo avere un giudizio anche se un giudizio del tutto diverso rispetto a quello analitico intellettuale possiamo farsene un giudizio può avere una forma ci può essere una forma a priori che ci permette il giudizio del sublime no ma la filosofia dell'arte successiva Kant la critica del giudizio di Kant è un trattato proprio di estetica mentre le estetiche cosiddette successive idealistiche sono filosofia dell'arte hanno a che fare con l'arte e qui in quanto filosofia dell'arte a veder bene hanno a che fare soltanto con la categoria del sublime l'arte bella è un momento storico per Hegel il passato l'arte che sarebbe ancora sottoponibile all'analitica del giudizio è per Hegel un'arte ormai del passato l'arte dell'estremo romantico l'arte dell'Europa romantica giunta al suo punto estremo dopodiché per Hegel deve aprirsi l'epoca della scienza in cui l'arte sopravvive sì ma superflua diventa un superfluo superfluenza è l'arte del sublime è l'arte del sublime di un'arte di un'arte dell'arte di un'arte di un'arte Grazie.